Ad Orsara di Puglia chi percepisce il reddito di cittadinanza sarà impiegato nei progetti di utilità collettiva. A deciderlo è il comune di Orsara, approvando i relativi progetti e avviando l'Iter che nelle prossime settimane porterà concretamente i percettori ad impegnarsi nei diversi ambiti, tra questi il verde pubblico, la scuola, il welfare, i servizi amministrativi, l'ambiente, il turismo e ancora altro. Abbiamo approvato i Puglia e ora l'Iter proseguirà fino ad individuare le disponibilità e ad organizzare e avviare i servizi come previsto dal progetto, ha spiegato il sindaco Mario Simonelli. Nell'ambito dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività i Puglia, appunto, nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. I comuni sono responsabili dei progetti utili alla collettività e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti. Oltre a un obbligo, i Pug rappresentano un'occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività. Per i beneficiari, perché i progetti sono strutturati in coerenza con le competenze professionali degli stessi, con quelli acquisiti anche in altri contesti. Per la collettività, perché i Pug sono stati individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale, devono intendersi come complementari a supporto ed integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai comuni e dagli enti pubblici coinvolti. Le attività messe in campo nell'ambito dei Pug rispondono ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Stiamo lavorando affinché sia i percettori di reddito di cittadinanza, sia chi fruirà dei loro servizi attraverso lo svolgimento dei progetti, possano beneficiare degli effetti positivi di queste iniziative. In una piccola comunità come la nostra, ha concluso il sindaco Simonelli, crediamo che i Pug possano dare un contributo importante in diversi ambiti. Grazie a tutti.